Lucas non ne poteva più di sottostare alle regole per lui troppo rigide imposte dalla sua famiglia per cui ha deciso di emanciparsi ed andare a vivere da solo finalmente niente più regole, niente più rari ma sarà davvero tutto così facile? Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel oggi siamo tornati con un nuovo episodio di The Sims 4 e siamo dal nostro Lucas era un po' che non tornavamo da lui e quindi oggi vediamo un po' come se la sta cavando come se la è cavata in questo periodo perché se vi ricordate lui era stanco di sottostare alle regole dei suoi genitori e ha deciso di andare a vivere finalmente da solo in questo appartamento che è una mezza catapecchia ma lui va più che bene l'importante è che le regole le faccia lui e quindi in pratica non abbia regole non abbia disciplina il nostro caro Lucas intanto vi faccio vedere già una novità ovvero si è fatto un po' crescere i capelli in questi mesi ha deciso di portarli un po' più lunghetti e non so se si vede ma ha messo su anche un pochino pochino di muscoli perché lui era veramente magrissimo anche eccessivamente e quindi ha deciso di andare un po' in palestra e ha messo su un po' di massa muscolare giusto poco poco ma già è molto meglio di prima e che sta succedendo? è sabato lui è passato tutto il giorno a casa a giocare ai videogiochi infatti vedete che sta ancora in pigiama però adesso la nostra Angel richiede attenzione perché poverina avete visto che ha il naso rosso temo proprio che stia male quindi Lucas adesso la porterà subito alla clinica guardate intanto la situazione della casa cioè mobili disastrati cibo, ciotole sporche ovunque perché Lucas figuriamoci se mette a posto queste cose adesso però assolutamente portiamo Angel alla clinica magari spero che si vesta e non esca in pigiama Lucas mi raccomando dai Angel andiamo vedrai che starai subito meglio perché bisogna dire che almeno di Angel Lucas si cura di lei fortunatamente dopo tutto è un regalo che gli è stato fatto per il suo compleanno e adesso Angel per Lucas è una presenza molto importante sono amici inseparanti eccoci qua Lucas sta registrando Angel e fuori ragazzi c'è un temporale terribile avete visto che lampi e che tuoni che si sentono infatti lui è un pochino teso perché non gli piace affatto il temporale però per fortuna stiamo al chiuso oh ma questo cagnolino assomiglia un sacco alla nostra Angel si chiama Harmony probabilmente sono no ah lei è un dalmata oddio ragazzi perché col fatto che sembra tipo congelata penso non si vedevano le macchie sembrava molto simile alla nostra Angel oh è arrivata la veterinaria finalmente il nostro turno la prego faccia qualcosa per la nostra Angel vieni qua Lucas siediti e assisti alla visita ah anzi è un veterinario pardon l'avevo scambiata per una donna cos'ha Angel cos'ha ci dica ci dica poverina con questo naso rosso sicuramente avrà la febbre mamma mia ragazzi qua ci sono i tuoni che scuotono i palazzi praticamente sta venendo giù una tempesta oh cos'ha Angel affetta da fiudo surriscaldato che tipo di terapia preferisci? terapia essenziale 150 e terapia costosa 750 e qua ragazzi abbiamo un problema perché non abbiamo i soldi per la terapia costosa abbiamo soltanto 511 simoleon e quindi Lucas purtroppo è costretto a ricorrere per forza alla terapia essenziale quindi curiamo Angel ma non al meglio e tra l'altro mi sa proprio che dovrà pure mettersi il cono della vergogna per questo motivo povera Angel si vedete Angel mi dispiace che siamo così poveracci mannaggia e Lucas guardate non può neanche tipo abbracciarla o accarezzarla vediamo se possiamo però fare eh no non possiamo consolarla possiamo parlarle però dai rassicuriamola un pochino e Lucas ragazzi rimane un pochino male per questa cosa cioè per il fatto che non si è potuto permettere la terapia migliore intanto però la rassicura le dice Angel non ti preoccupare vedrai che tra pochissimo già domani potremo levare questo brutto cono della vergogna l'importante è che tu adesso stai bene e mi sarebbe piaciuto tanto portarla magari a giocare un pochino a lanciare una pallina ma non mi sembra il caso vogliamo provare ad andare a San Maishu no? perché dove stavamo prima in effetti non pioveva quindi dai Angel andiamo al parco e infatti a San Maishu non piove ancora forse non è ancora arrivato il temporale per cui direi di approfittarne alla fine invece che al parco sono venuto nella zona sotto casa di Lucas perché il parco ormai si sta facendo un po' tardi quindi giochiamo un pochino con Angel che poverina no Angel mi fa troppo a me non ci ha guardato era proprio triste triste per questo cono eh povera e quindi vi dicevo ragazzi che Lucas è un po' dispiaciuto per questa cosa che non si è potuto permettere la terapia buona per Angel e si sta rendendo conto che gli servono ovviamente dei soldi perché li sta per finire quindi in questo modo avendo più soldi potrà oltre che comprarsi da mangiare che mi sembra una cosa fondamentale anche prendere tutte le cosine che servono per Angel eccetera e quindi si sta rendendo conto che si deve un po' impegnare al lavoro che vuole lei che mi guarda strano scusi perché se vi ricordate Lucas lavora come barista alle 5 di mattina dalle 5 alle 7 di mattina è l'unico lavoro che ha trovato quindi veramente massacrante perché poi alle 8 deve andare a scuola però ragazzi da quando ha iniziato il lavoro non è ancora stato promosso quindi guadagna ancora molto poco questo perché dovrebbe raggiungere il livello 2 di mixologia ma non l'ha ancora fatto perché ovviamente ha avuto altre cose da fare divertirsi giocare non ha avuto tempo di studiare queste cose però mi sa proprio che ora si sta rendendo conto che è tempo di farlo quindi ha comprato un libro di mixologia che ancora non ha mai usato ma è veramente arrivato il tempo di farlo quindi penso proprio che adesso Lucas se ne tornerà su insieme a Angel che poverina niente neanche la pallina le dirà sul morale quindi va bene Angel dai torniamo a casa almeno mangi un pochino e poi ci mettiamo a riposare lei riposa e lui studierà un po' di mixologia dai Angel andiamo riempiamo quindi la ciotola e chiamiamo qua la nostra piccola Angel e noi intanto a questo punto ci mettiamo finalmente a studiare questa mixologia voglio dire almeno un primo livello proprio un minimo non so se riusciamo ad arrivare a due già questa sera come ci dice l'incarico per la promozione però intanto ci proviamo ragazzi e direi che per oggi può bastare non è arrivato a livello 2 come avevo immaginato però diciamo che il nostro Lucas ha iniziato un po' a impegnarsi almeno su questo fronte perché ha studiato un paio d'ore buone l'una e mezza di notte di domenica quindi direi dai che ci possiamo accontentare per oggi quindi ragazzi adesso lo faccio sistemare un po' lo mando a mangiare lo mando poi a dormire perché domani anzi oggi perché ormai è passata la mezzanotte guardate che cosa c'è è iniziato l'autunno è il primo giorno di questa stagione e oggi c'è la festività che ho inventato io ovvero le equinozie d'autunno in cui dobbiamo fare un barbecue bere passare del tempo intorno al fuoco e io poi qua ci avevo messo giardinaggio perché a me il periodo dell'autunno ricorda la vendemmia e quindi qualcosa di relativo ovviamente Lucas non farà niente di giardinaggio perché non ce lo vedo proprio però le altre tre cose le possiamo tranquillamente fare e non fate caso che adesso le stagioni stanno impostate della durata di una settimana ma mi serviva per fare una cosa poi adesso le rimetto a 14 giorni e quindi ragazzi con lui festeggiamo questo equinozio d'autunno che non ha intenzione di festeggiarlo da solo ma visto che come aspirazione deve dare tre primi baci in tutto e gliene mancano ancora due direi che il modo migliore per farlo è invitare fuori qualche ragazza perché c'è una novità su questo fronte infatti se andiamo qui sul cuoricino la relazione romantica vedete che c'è Arianna con cui è fidanzato ufficialmente diciamo tra virgolette poi Sofia che se vi ricordate aveva iniziato a uscire con lei e ha una bella relazione romantica nel frattempo nel frattempo ha conosciuto e ha avuto flirt con altre due ragazzette che sono Atabby e Sara Castani quindi io direi a questo punto di chiamare una delle due domani festeggiare l'equinozio d'autunno con con la prescelta con cui vediamo se riusciamo a scambiare almeno un primo bacio per cui vai Lucas adesso datti una sistematina mangial voli cereali qua ma sì ma noi che ci importa di mangiare i cereali a luna di notte e poi andiamo a dormire e quindi ci rivediamo direttamente domani pronti per festeggiare ecco qua Lucas che sta facendo colazione con i biscotti a forma di animali e se ne vanta anche perché si sta facendo un selfie dopodiché direi che siamo pronti per uscire perché sta benissimo sono le 10 di mattina per cui abbiamo tutto il tempo vedete che siamo al primo giorno d'autunno eccoci qua purtroppo piove spero che nel posto dove dobbiamo andare il tempo ci assista comunque direi chiamiamo una delle due ragazze chi vogliamo chiamare ma dai a Tabby le inviamo un sms chiedendole se vuole uscire con noi a festeggiare questo primo giorno d'autunno io ho già in mente il posto in cui li porterò lei ci ha risposto ci ha detto che viene più che volentieri per cui andiamo e andiamo a Windenburg alle scogliere perché ho adibito proprio tutta una zona con il barbecue il mini frigo tutto ciò che ci serve per fare le tradizioni della festività quindi la nostra cara a Tabby viene con noi eccola qua ed eccoci arrivati per fortuna non piove anche se è nuvolo quindi il tempo ci ha assistito ragazzi l'unico problema sono messi da solo qui seduti sulla riva del laghetto molto carino come cosa bene si vede che comunque fa caldo vedete ragazzi per cui ci sta una bella nuotata l'unica cosa purtroppo vedete che Luca si è infuriato perché ha uno sbalzo d'umore ovviamente nel momento meno opportuno e lei è triste mi sa che questo appuntamento non so quanto potrà andare bene noi comunque ci proviamo e per il momento però direi di fare interazioni amichevoli perché se andiamo su quelle romantiche vedete che non mi fa fare granché cioè possiamo fare un complimento sarcastico ma non mi pare il caso perché ci dice che Luca è troppo furente per farlo quindi vediamo se riusciamo a fargli cambiare umore altrimenti dobbiamo aspettare altre sei ore quindi magari nel frattempo facciamo queste cose e poi ci proviamo certo Lucas che tu un momento migliore no non potevi proprio trovarlo mannaggia a te tanto raccontiamole una storia buffa comunque lei è tornata felice dai per cui magari non 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 se non se ne rende conto che Lucas ha questo sbalzo d'umore ci facciamo una nuotatina qua insieme a questo punto vedete che fa caldo nonostante sia autunno ottimo e poi ci andiamo a mangiare qualcosina anche perché è quasi l'ora di pranzo dai a tabby ti va di fare una nuotata magari pure Lucas si calma un pochettino in queste acque rilassanti cioè guardate c'è proprio liconcina rosso fuoco Lucas Lucas eh mannaggia lui non sta bene ma dai stai con una ragazzetta carina su 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 Lucas non ci pensare le tue preoccupazioni al momento sfruzziamole un po' eh vedete che mannaggia con il cuoricino negativo cioè dobbiamo cercare di ecco magari scusati perché non mi pare proprio il caso e dai ci andiamo a fare subito un barbecue veniamo qua insieme e ovviamente sarà Lucas a preparare io direi di fare beh un bel hamburger dai sarà in grado Lucas non mi sembra troppo difficile da preparare ah perfetto intanto è contento perché ha portato a termine una tradizione della festività spero che questo influisca un po' sul suo umore ma purtroppo ancora c'è la predominanza dell'umore furente però dura oltre cinque ore e intanto dai chiacchieriamo ancora un pochino con con la Tabby possiamo adularla un po' e poi cantiamo anche della festività dell'equinozio d'autunno e ah ok vedete che è tutto su ehi Lucas avete visto che scatto che ha fatto cerca di controllarti per favore ok è pronto perfetto dai a Tabby mangiamoci qualcosa insieme dove giustamente perché non ne ho fatto un tavolino quindi dai prendiamo una porzione insieme come è venuto non ce lo dice ah normale va bene Lucas dai magari poi ci accendiamo qua il fuoco intanto che prendiamo da mangiare si lo accendiamo dai dai che non piove così ne approfittiamo dai a Tabby prendi un hamburger così mi dici un po' se è venuto bene oh mamma mia eccola eccola io lo sapevo adesso diventerà peso anche per questo motivo mannaggia e abbiamo portato a termine un'altra tradizione ok ho dovuto aggiungere a Tabby alla famiglia perché se no se ne scappava in giro così almeno stanno qua intorno al fuoco e magari aggiungiamo un ciocco perché si sta già spengendo sperando che Lucas non si bruci di nuovo perché se no questo stato non gli passerà tipo mai dai altre tre ore e magari proviamo visto che sta nella famiglia approfittiamo vediamo se a Tabby riesce un tantino a migliorare l'umore di Lucas rallegriamo e lo cerchiamo di calmare così magari dura di meno lo status dai Lucas guarda che bel posto siamo guarda davvero hai avuto un'ottima idea a venire qua le scogliere a me piacciono moltissimo e poi è bello come hai organizzato tutto con il fuoco il mini frigo hai pensato davvero a tutto quindi grazie per questa per questa giornata e dai Lucas ok brava Tabby c'è riuscita grandiosa perfetto ragazzi Tabby è riuscita a calmare Lucas allora ci prendiamo una bevanda magari un succo e a questo punto prendilo anche tu a Tabby tu ti prendi sì un succo anche tu ovviamente non abbiamo tutta questa scelta con il mini frigo ma ci accontentiamo ecco qua lui mi sa che adesso è a disagio però almeno gli è passato lo stato furente mica male ecco e sta cominciando a piovere perfetto ho parlato troppo presto beh però ragazzi tutto sommato questa pioggerellina se resta così e non diventa un vero e proprio temporale potrebbe essere anche abbastanza romantico no? un appuntamento così in queste scogliere sotto la pioggia ha un suo perché ragazzi ha un suo perché e vediamo se adesso riusciamo a fare qualche interazione romantica lui intanto sta cantando della festività quindi dai ragazzi si è ripreso è diventato felice meno male e uh anche lei sta cantando perfetto e dai flirtiamo un po' uh ha acceso il fuoco certo non so quanto durerà con la pioggia ma va bene intanto guardiamo un po' ok direi che Atabi sta al flirt quindi diamoci sotto con le interazioni romantiche magari una bella battuta di abbordaggio e adesso che ha finito di bere anche lei il suo succo passiamo a le cose pratiche quindi dai facciamo un bel stringi e vediamo se Lucas riesce a dare questo primo bacio anche ad Atabi è carina lei però eh oh eccolo qua magari facciamo tenta di sedurre approfittiamo del fatto che sono entrambi flirtanti vai Lucas sole guardate direi che è molto sicuro di sé e vediamo eccolo finalmente ragazzi è comparso e quindi però aspettate che merita una foto guardate che bello questa location ottimo e ce l'abbiamo fatta un altro primo bacio anche con lei io vi ricordo ragazzi che per il momento ecco ci ha dato la spunta per il momento tutte le ragazze che frequentano Lucas non sanno di non essere le uniche ecco lui lui ancora riesce a mantenere bene il segreto però chissà chissà cosa succederà comunque si sono fatte le 6 ci ha preso le mani si sono fatte le 6 e mezza quasi a questo punto io direi che magari le teniamo la mano e la salutiamo visto che per oggi abbiamo anche portato a termine tutte queste cose abbiamo passato decisamente una bella giornata quindi arrivederci e poi Lucas è in mente di fare un'altra cosa quindi a Tubby grazie mille per la bellissima giornata mi ha fatto piacere poi magari ci sentiamo per riuscire insieme qualche volta e adesso che cosa avrei in mente di fare il nostro Lucas visto che piove intanto ce ne andiamo in un posto al chiuso e siamo sempre a Windenburg però nella zona del centro nella discoteca lo sterma del Narvalo e Lucas vuole invitare l'altra ragazza di cui vi parlavo prima ovvero Sara Castani la invitiamo qui nell'otto attuale cioè Lucas veramente si sta comportando in maniera pessima perché voglio dire è appena uscito con a Tubby si sono appena scambiati il primo bacio e adesso in serata sta già chiamando un'altra ragazza però a questo punto vorrei approfittare vediamo se riusciamo a dare il primo bacio anche a lei almeno completiamo questo suo step dell'aspirazione intanto ci sono sia Cecilia che Veronica va bene e aspettiamo che arrivi ed eccola qua che è arrivata poverina è un po' a disagio perché è arrivata Zuppa visto che fuori piove quindi magari cerchiamo di raccontarle un aneddoto divertente ok già tornata felice perfetto ci sediamo qua e chiacchieriamo sul divanetto e guardate ragazzi anche lei questa Sara Castani quant'è carina erano bambine che poi sono diventate adolescenti per conto loro perché la vita per gli altri va avanti insomma per conto loro e ho modificato giusto un po' gli abiti e il look perché ecco complimentiamoci appunto per l'outfit visto che l'ho creato io perché come al solito quando insomma crescono e si cambiano gli abiti per conto loro vabbè il gioco non è proprio il massimo di moda dobbiamo dire e quindi eccole qua questa sarà la prossima conquista di Lucas intanto condividiamo qualche foto magari carina che abbiamo e volevo cantare della festività anche con lei dopodiché ce ne andiamo no ma dai io volevo ballare se ne è andato il dj come facciamo accidenti tra l'altro assumerlo eh no e chi c'ha i soldi non posso ah intanto qua ci stanno però che gente che si scadena anche senza musica ok e va bene allora magari aspettiamo un pochino magari arriverà intanto facciamo sempre ecco parliamo della pioggia e e poi facciamo qualche interazione romantica anche con lei quindi un flirt una battuta di abbordaggio vedete che Lucas ha la sua tecnica eh e che bisogna dire che però va a segno va decisamente a segno tra l'altro con questo suo nuovo look secondo me acchiappa ancora di più eh vedete si si ci sta ragazzi ci sta è diventata flirtante ed è comparso primo bacio però dai io prima le offrirei una rosa facciamo un po' il galante e vediamo intanto se ah la musica però ci sta perfetto ora adesso andiamo a ballare eh Sara guarda un po' che cosa ho raccolto per te proprio oggi ecco qua oh ma che bella eh si l'ho pezzata e dai scateniamoci in pista allora è arrivato il dj perfetto eh dai Sara forza andiamo a fare quattro salti ed ecco vai e vai e intanto perfetto si stanno scatenando proprio bene intanto magari continuiamo a chiacchierare qua intanto ragazzi c'è anche fabbio e veronica c'è veronica c'è c'è cilia no ragazzi veronica è andata via avete visto e quindi non sono venuti in spievere ragazzi no no eh vogliamo provare a fare un ballo di gruppo tanto così per fare qualcosa e coinvolgere un po' tutti boogie boogie veloce dai c'è un po' tutti io e Sara essenzialmente vediamo se ci riusciamo o c'è troppa gente no purtroppo c'è troppa gente effettivamente è piuttosto affollato questa sera e allora Sara dai vieni qua torniamo a chiacchierare in un posto un po' più appartato intanto fuori ah perfetto ha smesso di piovere e allora ce ne veniamo proprio qua in questo posticino vicino alla fontana che è un pochino più romantico e vediamo se anche con lei riusciamo a dare questo primo bacio l'ultimo che ci manca per completare lo step dell'aspirazione di Lucas oddio ragazzi mi sa che con Lucas veramente ne vedremo delle belle ho in mente diverse cose ah lui ma non già deve andare in bagno quindi subitissimo facciamo un complimento per l'aspetto ce la stringiamo ce la stringiamo per bene anche lei ecco qua e poi vai con il primo bacio secondo me ci sta pure lei ragazzi si si guardate guardate anche qua comunque che location romantica con questa fontana decorativa dietro eccoli e voilà e anche ecco qua lo step l'abbiamo completato e però voglio una foto anche con loro lo sfondo molto molto carino di Windenburg ragazzi il nostro Lucas fa conquiste su conquiste e oggi Lucas ha dato due primi baci in un giorno cioè vabbè è pessimo Lucas sei pessimo sappilo beh io direi a questo punto si ma abbracciamola ancora e poi lo mando un attimino al bagno però poi vorrei concludere la serata in un modo carino intanto c'è Rachel nostra sorella che ci sta chiamando per invitarci ad una festa alle rovine ma sapete ragazzi che faccio sì io accetto dai magari sì possiamo portarci anche Sara sì sì dai d'accordo d'accordo Rachel vengo perché no perché no portiamoci Sara vai ok Lucas è andato a fertilizzare il cespuglio ed eccoci qua alle rovine qui c'è Sara e Rachel dov'è tra l'altro Lucas si stupisce un po' del fatto che Rachel stia a questa festa a quest'ora e quindi chiacchiera un po' con lei e le dice ma Rachel ma mamma e papà ti hanno dato il permesso di uscire a quest'ora tardi ma come mai perché lui ragazzi sappiamo che le regole di Jordan in particolare sono piuttosto rigide però Rachel gli dice ma sì guarda oggi è stata un'eccezione perché sono stata bravissima all'ultimo compito in classe ho preso 10 e quindi insomma mi hanno fatto come regalo la possibilità di venire a questa festa ah ok dice lui meglio così allora almeno ci divertiamo un po' visto che dal compleanno di Rachel appunto che non si vedevano e ti presento una mia amica vieni vieni così te la faccio conoscere visto che adesso sono entrambi adolescenti certo c'è un po' di pericolo il fatto che Lucas fa conoscere le sue ragazze alla sorella perché oh no se ne sta andando però perché si sta facendo tardi va bene dai fa niente rimaniamo con Rachel dicevo c'è pericolo perché chissà se poi Rachel diventasse amica di tutte le ragazze del fratello sarebbe un problema perché a quel punto diverrebbe difficile nascondere i vari tradimenti così di Lucas comunque dai qua ci sta un affollamento tremendo al bar cioè va bene deve essere bravissimo questo barista e cioè e ci sono sia Veronica che Cecilia Jack ci stanno tutti Veronica ok Veronica e Cecilia devo dire che sono molto festaiole chi l'avrebbe detto cioè sì di insomma di Cecilia lo sapevamo però di Veronica no invece la ritroviamo in giro ovunque e dai adesso divertiamoci un po' con nostra sorella e stiamo qua fino a quando la festa non finisce oh ecco qua adesso si stanno salutando perché si è fatto tardi e va bene che Jordan ha permesso a Rachel di andare a questa festa però ecco senza esagerare Lucas invece tranquillamente continua a rimanere qua vediamo se riusciamo a prendere qualcosa da mangiare in questo caos totale perché comincia ad avere un po' fame quindi magari ci prendiamo delle patatine vediamo se cioè guardate quanta gente ragazzi e ragazzi si è fatto tardissimo o anzi prestissimo perché è mattina presto e ci sta arrivando una telefonata da parte del nostro capo perché sono quasi le 6 e Lucas doveva stare al lavoro già dalle 5 quindi il capo ci sta chiamando per intimarci neanche in modo troppo gentile immagino di presentarci al lavoro perché lui stando qua alla festa non si era reso conto di che ora fosse e quindi deve subito correre al lavoro nonostante guardate la sua stanchezza cioè stanco morto e dopo il lavoro dovrà anche andare a scuola quindi il nostro caro Lucas adesso andrà al lavoro e poi a scuola nonostante sia vedete che è molto a disagio quindi chissà chissà che Lucas non inizi ad imparare una lezione ovvero che nonostante adesso viva da solo non può fare proprio esattamente come gli pare perché nonostante tutto ci sono delle cose che bisogna fare per forza quindi non è poi forse come si immaginava lui non si può vivere davvero una vita senza regole non è tutto oro quello che luccica quindi per oggi ci fermiamo qui spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete il like mettete anche il mi piace alla mia pagina facebook per rimanere sempre aggiornati noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao